Dopo il pareggio a Marsiglia, ora si decide chi andrà a Dublino, un'altra partita ricca di emozioni. Per te, purtroppo, a Marsiglia la partita si è chiusa subito. Che partita sarà? Diversa rispetto all'Orange Velodrome, dove il pubblico è indubbiamente stato il dodicesimo uomo in campo? Sì, ma noi conosciamo che, specialmente il stadio Velodrome, che è un stadio molto caldo, i supporti saranno spiegheranno il team. E' lo stesso per noi, domani i nostri supporti saranno spiegheranno ogni gioco a casa e domani saranno i nostri 12. Una partita, quella di domani, per scrivere la storia dell'Atalanta. Ne siete consapevoli? Per sicuramente, per l'Atalanta, ma anche per noi come giocatori. È sempre qualcosa di più speciale, a fare un finale come questo, e tutti vogliono giocare un finale come questo. Per questo è l'unico di attrazione, spiegheriamo così forti, spiegheriamo così forti, per capire una situazione come questo. e ora è una grande opportunità per noi, per la finalità, e questo è il nostro obiettivo. E ho spero che ci siamo arrivati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.